Ciao a tutti e bentornati sul canale! Allora, visto che nell'ultimo periodo sono riuscita a fare pochissimi tutorial di Natale e mi dispiace veramente tanto, ma sono stata molto impegnata ho deciso di fare un video dove ho raggruppato tutte le possibili idee fedate sui regali di Natale quindi vi faccio vedere un po' di idee e ne parliamo insieme sono tutte idee che ho trovato su internet, che magari alcune di voi già avranno visto o magari qualcuna non ha visto, quindi da questo video può prendere appunto qualche spunto e iniziamo subito! Allora, partiamo dalle donne, perché per gli uomini c'è veramente pochissima scelta di idee regalo e mi dispiace, ma è così! Un'idea molto carina da fare magari a qualche amica, un pensierino piccolino potrebbe essere questo quello di impacchettare uno smalto insieme alla lima per le unghie magari una lima un po' più particolare, più decorata insieme appunto allo smalto del colore che appunto potrebbe piacere alla vostra amica vostra sorella, vostra fianzata, qualsiasi persona secondo me è un'idea regalo molto carina e anche molto originale per come è stata appunto impacchettata un'altra idea potrebbe essere quella appunto di ricreare quelle classiche candele che si trovano un po' in tutti i negozi di casa, che sono molto eleganti secondo me, molto carine basta comprare una candela di quelle semplici di vetro appunto e stampare con la stampante una frase, una parola appunto in bianco e nero e poi attaccare con una pellicola trasparente che vi ricordo potete trovare un po' ovunque le pellicole trasparenti, le utilizzavo per le etichette, per i cosmetici per da te quindi appuccicarle con questa etichetta trasparente e anche con la colla ormai insomma potete fare anche in questo modo e risultano delle candele molto molto eleganti secondo me allora un'altra idea molto originale è quella appunto di regalare questa scatolina con all'interno le fotografie che potrebbe essere, secondo me questo potrebbe essere un'idea regalo per un uomo anche per San Valentino, non solo per Natale queste fotografie le potete stampare voi a casa se avete una buona stampante oppure farvela fare proprio dal fotografo gli fate vedere queste immagini e gli dite guarda voglio appunto queste fotografie tutte in linea in modo tale che le possa piegare e poi mettere all'interno della scatolina quindi la forma della fotografia deve avere la stessa dimensione della scatolina che poi andrete a comprare e secondo me è molto molto carina questa idea mi piace molto, infatti penso proprio di farla anch'io ecco, un'altra idea golosa per chi ama i dolci è quella della jar piena di dolci la jar che è il barattolo lo potete utilizzare per fare tantissime tantissime idee regalo io veramente li ho fatti a bazzuffe l'anno scorso potete utilizzare la jar per metterci appunto dei dolcetti dentro decorato in questo modo semplicissimo oppure magari ricreando quella che potrebbe essere un'arena infatti l'ho fatto anche nel video precedente oppure potete metterci all'interno della jar gli ingredienti per ricreare dei biscotti fatti in casa oppure gli ingredienti per la cioccolata calda potete decorare il barattolo come volete potete attaccare quello che volete veramente è uno degli oggetti che più spregiona la fantasia la fantasia delle persone secondo me ed è veramente un'idea molto originale quella di utilizzare appunto la jar potete utilizzare la jar anche per ricreare degli scrub come questo che ricorda molto la candy cane quindi potete metterci lo scrub ovviamente lo potete fare con semplice olio e sale o olio e zucchero e miele e potete colorarlo con dei coloranti alimentari ci mettete prima una striscia di bianco poi una striscia di rosa insomma e via dicendo chiudere il baratto e chiudere il tutto con un nastrino e una candy cane per esempio ed è veramente bello da vedere e come vi dicevo anche molto originale è utile perché lo scrub è utile sempre un'altra idea anche questa secondo me adatta sia a uomo che a donna potrebbe essere quello appunto di comprare queste lettere giganti di legno che spesso si trovano non so precisamente dove forse da brico potete provare a dare un'occhiata o farvele ricreare da qualche falegname se avete qualche amico o parente e al di sopra di questa lettera o di queste lettere metterci appunto tante fotografie in bianco e nero che possono essere le vostre oppure dei vostri amici ecco gruppi di amici questa è una bellissima idea anche un bellissimo oggetto di decorazione della casa allora io adoro le tazze quindi se a Natale mi regano una tazza io sono sempre super felice perché vado proprio in estasi quando vedo le tazze e questa è una tazza che ho fatto anch'io nel video precedente dove praticamente vi occorrerà una semplice tazza bianca e degli smalti i colori che preferite basta immergere praticamente questa tazza all'interno degli smalti che andranno poi appunto nell'acqua vi farò vedere meglio nel video se vi interessa e lasciandolo asciugare viene appunto la tazza decorata in questo modo ed è veramente molto bella da vedere molto particolare poi all'interno potete magari metterci qualche dolcetto come ho fatto io impacchettarlo con una carta trasparente ecco è un'idea originale e creativa potete realizzare dei cosmetici fatti in casa come vi dicevo prima degli scrub dei burro cacao che sono veramente semplici da realizzare io feci un burro cacao con il cioccolato quindi con tutti gli ingredienti fatti in casa vi lascio sempre qui il link vi lascio anche il link di qualche altra idea regalo particolare sempre di cosmetici fatti in casa questi sono sempre utili gli scrub, il burro corpo i balsami per le rabbra potete realizzarli con pochissimi ingredienti altra idea se avete qualche amica o amico amante del tè potete realizzare in maniera molto semplice questo alberello di Natale con tutte le bustine del tè praticamente al di sotto di queste bustine che voi vedete c'è il rotolo dello scottex quindi quel rotolo grande quello reciclatelo e ci attaccate appunto tutte queste bustine del tè che potrebbero essere tante buste differenti di varie tipologie di tè se volete per far provare appunto varie tipologie di tè soprattutto se il tipo o la tipa è amante e poi al di sopra metterci un cartoncino appunto a forma di stella lo trovo molto originale anche questo è un'ottima idea regalo questa potrebbe anche essere questa un'idea da fare al proprio fidanzato o ad un amico comprare una cornice e con dei fili neri e delle appunto pinzette nere o colorate come preferite attaccare tutte queste fotografie ecco è diversa dal solito è diversa dalla solita cornice con la fotografia classica la trovo molto molto più carina questa è un'idea per impacchettare regali e anche questa è un'idea per riciclare le cose ed è praticamente il rotolo della cartigenica che può essere appunto utilizzato per creare dei pacchettini regalo questi pacchettini li davano nei negozi di bijoux ecco all'interno potete metterci delle saponette oppure dei gioielli e decorati in una certa maniera secondo me risultano molto belli questa qui è un'idea che mi piace tantissimo e ve la faccio vedere perché io la farei sulle magliette più che sulle borse della spesa praticamente dovete comprare quei foglietti bianchi che si utilizzano per i dolci che trovate un po' dappertutto che sono quelli un po' bucherellati non so se riuscite a vedere bene della foto e andate a colorare all'interno dei buchi di questo pezzo di carta ricamato e vi uscirà appunto quel ricamo sulla stoffa io lo farei come vi dicevo su una maglietta la A, la N, la S insomma le lettere sicuramente sono delle lettere stampate da una stampante ecco potete farlo anche voi tranquillamente in casa se siete brave a cucire e a realizzare delle cose molto carine con il panno lenci io vi fece anche di questo un video che ve lo metto qua un'idea per i decori natalizi questa potrebbe essere una bellissima idea regalo da appendere alla porta da regalare magari a qualche famiglia o a qualche amica che si è appena trasferita in una nuova casa perché i legnetti li trovate un po' ovunque quindi basta incollarli con la colla a caldo o con dei nastri come questo e i gattini i fiorellini sono fatti con il panno lenci ed è veramente un'idea molto molto bella un'altra idea regalo questa potrebbe essere un'idea per un uomo è quella di regalare delle pantofole con all'interno dei prodotti per la cura della persona qui all'interno ci saranno sicuramente dei prodotti da donna però alla fine potreste metterci all'interno che so un bagnoschiuma uno shampoo un gel da barba un rasoio ecco lo trovo molto carino anche oh oh mi sono spracelata il rossetto e la trovo anche questa è un'idea molto originale poi le pantofole comunque all'uomo servono sempre se sapete che il vostro uomo il vostro amico in particolare è molto pantofolaio questi sono i braccialetti in legno che vi ho fatto vedere anche io in un video precedente che sono decorati con le pitture questi braccialetti sono un'idea regalo secondo me molto originale la potete fare a qualche amica se avete magari delle se siete delle ragazze che vanno ancora a scuola ecco secondo me queste questa potrebbe essere un'idea regala da fare a qualche amichetta perché vi divertite a farli sono semplici da fare e sono molto economici e poi sono particolari potete personalizzarli come più preferite questa invece è una bottiglia di vino quante di voi quanti di voi regalano a Natale una bottiglia di vino ecco questo è un modo originale per regalarla vi occorrerà del pannolenci con la quale potete realizzare il cappello semplicissimo basta ritagliare un triangolo e cucirlo ecco a modi di cappello sicuramente al centro sarà un bottone magari potete comprare quei batuffoli colorati che io ho utilizzato per fare il naso dell'area su un barattolo lo potete trovare dai cinesi sicuramente sono dei bottoni e poi alla fine quella è una paglia paglietta bianca tipo di quelle che vanno all'interno dei cuscini o all'interno delle imbottiture dei decori per pannolenci appunto che potete utilizzare per ricreare la barba di questo elfo o di papo natale ecco la trovo anche questa è un'idea originale invece per chi ama cucinare è quella appunto di regalare un guanto con l'interno tutti gli oggetti perla la realizzazione dei dolci questa idea è molto carina da regalare magari a qualche mamma ecco potrebbe essere veramente un'idea originale questo potrebbe essere un'idea regalo per l'uomo comprare una scatola con all'interno tutte cose che magari ad un uomo potrebbero servire come una sciarpa i guanti un profumo un orologio una candela o magari come vi dicevo un gel da barba un rasoio particolare un sapone una crema viso particolare ecco è l'idea della scatola in questo modo che è molto originale tazze a candela queste le feci tanti 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 anni fa e sono facili da realizzare e anche molto belle se trovate delle tazze come queste che sono veramente molto belle è un'idea molto shabby chic quindi se avete qualche amica che ha una casa in quel modo quindi in quello stile è un'idea sempre molto apprezzata potete utilizzare per fare le candele o la cera se la trovate in giro nei negozi di recupaggio di solito si trovano gli attrezzi per fare le candele vi vendono sia la cera che gli stoppini oppure se non avete questo comprate delle candele bianche semplici che magari fate sciogliere in un pentolino e le andate a mettere all'interno della tazzina una volta sciolta così si raddensa e dovreste riuscire a salvare anche lo stoppino della candela bianca che avete comprato ecco un'altra idea fai da te ed economica soprattutto se avete un vecchio maglione e sapete cucire questo è sempre importante un vecchio maglione che non utilizzate più perché magari vi va piccolo o un maglione che vi va troppo grande che ovviamente non sia rovinato ecco potete ricreare dei guanti in questo modo proprio ricalcando la forma della vostra mano e cucendo il guanto e viene veramente un'idea bella soprattutto se avete un maglione di natale per esempio che non utilizzate più secondo me è un'idea anche questa molto originale questa è un'altra decorazione della tazza se riuscite a trovare in giro sempre in negozi di fai da te decoupage eccetera eccetera dei pennarelli che riescono a scrivere sulla ceramica potete appunto ricreare una tazza originale personalizzata scrivendo appunto con questo pennarello poi la tazza andrà messa in forno per 30 minuti in modo tale che il colore non si tolga più non lo potete fare con i colori classici lo dovete fare con i colori adatti appunto ups alla scrittura sulla ceramica oppure questa è un'altra idea quella di ricreare un portageelli con la cornice delle fotografie una buona cornice che abbia ovviamente dietro un cartoncino molto resistente dove potete metterci appunto delle puntine e andarci a mettere dei gioielli ultima idea regalo e anche questa è molto bella da vedere questa è una pezza chiamiamola una pezza che servirà poi per pulire il viso quindi uno di quei panni microfibra che si utilizzano per lavare il viso con all'interno sicuramente un sapone o qualche prodotto per la cura ed è decorato in questo modo a mo' di renna se riuscissi a trovare quelle corna sarebbe la fine del mondo perché mi piacciono veramente tanto e lo farei anch'io in questo modo con un pensiero di questo genere è bellissimo gli occhietti e il nasino li potete trovare in negozi dei cinesi ed è appunto la fine del mondo allora queste erano tutte le idee regalo che vi posso consigliare facili economiche facili da fare economiche e originali spero tanto che questo video vi sia stato utile se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su fatemi sapere quali di queste idee vi ispira di più quale fareste e io vi mando un grosso bacio ci vediamo sicuramente in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti e tutti i miei social un bacione grande e alla prossima ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti